. Fotos e, soldi per non pubblicarli, due giovani in manette. . Vant create site? Find free word prestemesa in plugins. Avevano minacciato di divulgare online alcune fotografie ritraenti la figlia minorenne in pose intime se non avesse consegnato la somma di 2000 euro. Classe 1997 e p. . Classe 1990, residenti a San Giorgio Morgeto, in provincia di Reggio Calabria, sono stati arrestati dalla polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Polistena, con l'accusa di tentata estorsione e di detenzione di materiale pedo-pornografico. . . L'esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare è avvenuta dopo serrate indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e coordinate dal procuratore Federico Caffiero De Rao e dall'aggiunto Gerardo Dominigliani. . Le indagini erano state avviate a maggio del 2015, quando un uomo si era presentato, in forte stato di agitazione, presso gli uffici del commissariato di PS. . Di Polistena denunciando di essere stato contattato, tramite chat, da un ignoto utente di Facebook che lo aveva minacciato di divulgare online alcune fotografie ritraenti la figlia minorenne in pose intime se non avesse consegnato la somma di 2000 euro. . Gli agenti del commissariato di Polistena, di concerto con l'autorità giudiziaria, hanno immediatamente svolto un servizio di appostamento ed osservazione per individuare l'autore dell'estorsione nel momento esatto del ritiro della somma pattuita. . . L'operazione di polizia non è andata a buon fine perché all'appuntamento non si è rappresentato nessuno. . 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